Perché nel frattempo tu come hai predisposto il tutto? Ho predisposto il tutto facevano dei salsicciotti con la pasta Ma guarda che stai facendo i dolci oggi Eh, vabbè Pronto? Pronto, Valeria Buongiorno Buongiorno, buongiorno, sei bravissima Io sono una fortunatissima grazie a voi In che senso? Oggi chiamo Beranzogna Senti, Valeria, ma come facciamo quando finisci la trasmissione la mattina senza di te? Aspetta, ma in tutto questo non ti ho neanche chiesto come ti chiami? Elvira da Napoli Elvira da Napoli L'ha fortunata che ha vinto il treno importante Ah, adesso mi ricordo il via Eh, volevo chiedere al mio grandissimo palesano Faicata Che come ti fanno di spaghetti con i ricci di mare E se veramente ci sono anche di scatola Ecco Allora Allora Lo spaghetto e i ricci di mare È vero È una cosa molto banale Molto semplice L'importante è avere un prodotto extra fresco Che ad esempio In pescheria adesso stanno vendendo i barattolini Con i ricci di mare Però puliti da loro E non sono quelli scatola o marchio Perché quelli Io non li benedico perché a me non piacciono da Procedimento è molto facile Basta prendere dei pomodorini Sai i pachini Quella piccolina Oppure Quella piccolina Perfetto Esatto Li tagli a metà e ci levi la polpa da dentro Poi con la parte esterna Fai tutti dei pubbettini piccoli 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 Aglio e olio in padella Soffriggi questi pomodorini Cuoci gli spaghetti Li coli dentro questi pomodorini Li salti bene bene da parte Al fuoco Perché i ricci di mare non vanno mai sul fuoco Un po' come la carbonara Ci butti su tutti i ricci di mare Mantechi bene tutta la situazione E vedrai che impiatti La situazione La situazione della padella Ah ok va bene Mantechi bene il tutto E vai impiattare L'importante è Andare lontano dal fuoco Quando si cucerano i ricci di mare Perché molte persone Sai che fanno Fanno la pasta La mettono nella scola così La salto E poi ci buttano i ricci di mare Con il fuoco acceso sotto Cosa succede? Vale Elvira Seguaglia tutto cosa Ecco Seguaglia Elvira Seguaglia tutto cosa Elvira Via da fuoco Elvira Capito Ecco Va bene Sei grande Grazie Elvira E mi ha un bacione Ti abbracciamo Grazie Ciao 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 Elvira È inutile Più complimenti ricevi E più le risate arrivano Amp